E' stata una giornata di festa ma anche di sport al campo sportivo di Pieve al Toppo. I bambini dell'Istituto Arcobaleno di Tegoleto infatti si sono ritrovati all'impianto sportivo Nocciolini per la conclusione del progetto Scuola Calcio che ha visto impegnata la società che ha messo a disposizione i propri istruttori che sono così entrati nelle classi dell'Istituto della Baldichiana. Cinque le classi che hanno partecipato al progetto, circa 120 piccoli studenti che hanno preso parte ai corsi. Lunedì mattina dunque dopo il riscaldamento, alcune esercitazioni ed ovviamente una partita calcio è stato tempo di premiazioni alla presenza di genitori, insegnanti, dirigente scolastico e amministrazione comunale.